Una bella bordata quella che il presidente del Genoa Zangrillo ha rifilato a Marotta e la vedete nel nostro titolo, vuole che gli regali Gudmundson, che gli regali, attenzione non che gli venda andiamo a leggere nel dettaglio, anzi no, scusatemi, io farei così prima vi farei ascoltare Marotta perché ieri sera Marotta aveva parlato di mercato e anche di Gudmundson dicendo una determinata cosa che però viene un po' smentita dalle parole di Zangrillo sentiamolo allora Beppe Marotta Noi abbiamo già allestito una squadra competitiva, il fatto di confermare praticamente la quasi totalità dei campioni d'Italia dell'anno scorso depone come noi vogliamo fare le cose bene vogliamo ambire ancora traguardi importanti e soprattutto si parte proprio dalla conferma di quelli che sono stati gli attori, i protagonisti principali non so, non sappiamo tutti che è un buon giocatore ma in questo momento il nostro reparto offensivo è a posto quindi no Gudmundson è un buon giocatore ma il nostro reparto offensivo è completo quindi no e poi però arrivano le parole di Zangrillo che invece abbiamo in grafica ve le facciamo vedere e Zangrillo ci racconta un'altra storia cosa dice Zangrillo? la prende alla lontana no? Parlando del Genoa penso che il Genoa debba ritornare dove manca da tanto tempo e per farlo ci vuole un consolidamento economico che ti consenta di dire di no al signor Beppe Marotta quando vorrebbe che tu gli regalassi Gudmundson e lo dico all'amico Beppe senza nessun tipo di malignità lo dico perché so che all'Inter piace Gudmundson e io ho detto che spero che lui possa sognare e continuare a sognare però il Genoa deve essere padrone di se stesso caro cosa vuoi dire Paolo? sono 100 anni che non vince uno scudetto 24 fu l'ultimo scudetto l'ultimo scudetto però più che lo scudetto qui la frecciata è chiara certo noi non regaliamo Gudmundson allora quando Marotta dice che non è vero che l'Inter lo cerca sta dicendo una bugia oppure dice una bugia Zangrillo mi chiede allora oggi c'è un'ultima domanda Marco Salonso e Gudmundson chiedono a Marotta e lui risponde penso di escluderti sì perché poi c'è anche l'infortunio di Bucana l'aveva detto anche su Iguain a clausola già pagata e lui dice il nome infatti dice penso però non dice sicuro dice penso di escluderti il nostro organico è già forte allora poi tra l'altro anche Ausilio ha parlato di Arnautovic che sembra scollegato in realtà è molto collegato perché l'Inter ha ragione Marotta quando dice che tutte le caselle sono piene anzi l'Inter ha degli esuberi in attacco perché oltre a Taremi che è appena arrivato Lautaro che sta rinnovando Turam c'è appunto Arnautovic che è appena uscito dall'europeo c'è Correa da piazzare e poi c'è una serie di giovani su cui decidere cosa fare tipo Valentin Carboni ce ne sono altri che verranno dati in prestito i fratelli esposi 40 vuole per Valentin Carboni eh appunto minimo anche lì sì però magari lo dà in prestito oppure che lo vende corre compra come ha fatto con Fabian sta di fatto che oggi se tu avessi pure diciamo i soldi per Gudmundson dove lo metti seconda punta ma poi hai tre esuberi cioè l'Inter non può avere tre giocatori fuori rosa fuori lista champions quindi l'unica strada per arrivare a Gudmundson il problema non è economico come dice Zangrillo il problema è di fargli posto però lo saprà Zangrillo se lo dice cioè ci avrà parlato con Marotta magari mette le mani avanti perché dice arriverà un'offerta e l'Inter un po' come il discorso di Calafiori con la Juventus cioè l'Inter se prende questo giocatore non lo prende domani mattina lo prende oltre la metà del mercato parliamo di agosto ad oggi ad Arnautovic nessuno ha detto te ne devi andare lui ha detto voglio rimanere quindi a meno che non vuoi avere cinque punte però se hai cinque punte uno non fa la Champions cioè non è proprio e poi per iniziare a pensare di prenderne uno almeno Correa deve iniziare a uscire così come bisogna risolvere il discorso di Valentin Carboni ma Correa è scontato questo è scontato ma nessuno lo paga e faresti una minusvalenza non sto pagando neanche Osimè ma lo stesso Carboni quindi immagino un po' se possono pagare ma infatti il Napoli sta prendendo Lukaku no perché si dice stallo per il discorso che non esce Osimè ti va detto che siamo all'inizio di luglio siamo all'inizio di luglio però mentre Osimè è un giocatore che ha fatto tanti gol quel passaggio che tu hai citato di Ausilio noi ce l'abbiamo è breve però è significativo perché Ausilio nega che Arnautovic sia sul mercato andiamo ad ascoltare anche questo la nostra posizione è molto semplice ed è uguale a quella di Arnautovic noi non abbiamo mai messo Arnautovic sul mercato poi al di là di tante cose che si sentono si raccontano cioè noi siamo anche contenti della stagione del contributo che Arnautovic ha dato alla squadra è stato importante in tante cose una volta ci si limita a vedere soltanto il numero dei gol che fa l'attaccante o il minutaggio che ha avuto durante la stagione io di Arnautovic oltre alle prestazioni come tutti ci sono state alcune buone alcune meno ho apprezzato tantissimo anche quello del contributo che ha dato alla squadra nello spogliatoio durante la settimana degli allenamenti e quanto è stato di aiuto magari a quelli più giovani in primis penso al Durano qui insomma Marcello sinceramente quando Auxilio ci dice che sono contenti della stagione che ha fatto Arnautovic che quindi non è sul mercato qui diventa molto difficile credergli bomba anche piazzato ma loro hanno questa politica di ma poi del resto scusami ma cosa vuoi che ti dica che ha giocato male è ovvio che ti venga a dire che ha fatto una buona stagione l'Inter è stata campione d'Italia quindi cioè alla fine difende i suoi giocatori poi è chiaro che tutti noi abbiamo visto quello che ha fatto Arnautovic e l'abbiamo visto anche gli europei non mi sembra che anche gli europei non è che abbia Fabio così brillato Arnautovic però insomma ognuno porta l'acqua al proprio mulino Simone lo prende l'Inter e Gudmundson alla fine secondo te ma io mi auguro proprio di sì penso che possiamo fare no non lo so no dicevo penso che l'Inter penso che l'Inter possa se non lo sai tu penso che l'Inter possa fare un salto di qualità con questo giocatore ma non sono in grado di affermarlo perché non lo conosco così bene da poter affermare una cosa del genere però Arnautovic lo conosci ma non ne conosci uno non ne conosci di questi giocatori e non conosci Calafiori e non conosci Gudmundson ma lui Marcello ma lui durante la giornata è impegnato nel suo locale sai che lui ha un bar e cosa fa? il barbato il barbato non ha tempo per le notizie calcisi viene qua la sera però di Calafiori ha detto che sei innamorato vedendolo giocare Calafiori si bastano sei secondi per capire il calibro il calibro occhio occhio quindi ti servirebbe guardare sei secondi di Gudmundson che calibro conosci i sei secondi non ho capito? non lo so ma non erano sette allora l'organo io si voglio mai approfondire tanto l'organo l'organo in chiesa quello a canne ha dei vari calibri le note più acute hanno questo calibro man mano che diventano gravi non fare gesti le note hanno sempre un calibro maggiore non siamo a diretta musica qua allora bastano sei secondi per capire il calibro di Calafiori non è il cantagiro tu Gudmundson lo conosci o no? fatemelo vedere giocare qualche secondo allora te lo richiederemo quando l'avrai visto lo chiedo a Francesco che invece lo conosce Gudmundson no no conosco Barbato purtroppo anche io però non conosceva Federico non conosceva Calafiori c'è lì c'è da fare tutta una serie di incastri beh chiaro che se tu fai uscire Arnautovic Correa ti ritorna e riveni anche lui e ti prendi Gudmundson male non fai sì però ti servono tanti soldi cioè nel senso non è con la cessione di Arnautovic l'Inter è più utile di tutte quest'anno tra i diritti seriali qualificazione Champions quasi vicino i 100 milioni leggevo che Milan e Juventus sono 89-88 cioè comunque il mercato lo può fare al momento si è mossa già bene ha preso tre giocatori per me importanti per ogni ruolo che servivano Taremi, Zelinski e il portiere adesso Gudmundson ha voglia secondo me di una squadra importante si è capito e quindi Zangrilli in questo momento cerca di remare acqua verso Somolino ma quando Marotta parla in questo senso io continuo a dirlo quando dice non mi interessa per me è una roba già fatta oppure quando rinnova e vuol dire che il giocatore può essere pericolosamente sul mercato vedevo tanti interessi dispiaciuti per il rinnovo di Dumfries di Cocchio che non è finita perché quando lui rinnovava Pogba, Vidal, Tevez o scusami Llorente eccetera eccetera poi l'anno stesso o l'anno dopo no no in generale lui quando rinnovava poi aveva molto più potere economico certo e vendeva più è lungo il contratto e più è possibile e vendeva anche abbastanza velocemente quindi ovvio che Gudmundson è un giocatore importante però anche Michela ragione cioè dove lo metti in questo momento come titolare non c'è posto c'è anche la Lazio su Gudmundson c'è anche la Lazio tra l'altro a Gudmundson l'Inter piace tanto perché quando è stato intervistato gli hanno chiesto di Mkhitaryan dell'Inter come gioca perché qualcuno dice però nel 3-5-2 non ha la sua posizione ideale lui ha detto no no dove gioca Mkhitaryan tra l'altro ha scelto uno che fa molta panchina e arriva anche Zielischi quest'anno ha detto no a me piacerebbe giocare anche in quella posizione tanto che oggi diversi colleghi si sono divertiti a capire con Gudmundson che alternative tattiche può avere l'Inter in avanti però all'Inter rimane quello da fare adesso sì l'infortunio di Buchanan occhio che occhio che tutto questo poi non arrivi l'uscita dolorosa che ci sia una cessione importante che marotta le faste cose quello dipende sempre dalle offerte per esempio ad oggi quella che cova più sotto la cenere di cui si parla un po' diciamo in seconda indirettamente ecco è sempre questo famoso Paris Saint Germain che ha legge sulla Serie A perché può volere Osimène può volere Leao ecco se vedi in casa Inter può volere Turam che è un giocatore che se la Francia farà un europeo con Turam che fa bene la fase finale cosa che finora però non sta sull'interno però stiamo parlando di scenari il mercato è appena iniziato ecco se l'Inter per esempio vende Turam che ha una clausola il Paris Saint Germain se vuole paga 90-85 milioni e si prende ad oggi anche se Turam deve essere d'accordo con la Coppa America che sta facendo l'Autor non mi preoccuperei più di quello no ma Lautaro Martinez non per l'immediato non per l'immediato non per l'immediato ma anche stasera a meno che non arrivino offerte indecente ma indecente vuol dire indecente che non puoi assolutamente non ascoltare io starei attento invece all'indiscrezione su Frattesi che ha fatto capire di non voler fare il panchina che vuol giocare di più e quindi questo con me libera un posto a qualche altra parte e i posti liberabili ma quanto costa Frattesi? ma appunto è imprendibile Frattesi l'hai pagato 30 più bonus 40? no sì non lo vende non l'hai pagato devi pagarlo devi pagarlo ma adesso lo puoi vendere al massimo a 50 non è che puoi vendere di più ma anche a 40-45 è comunque la più sparenza del genere no è quello il concetto bisogna capire la Roma è interessante ma la Roma non spende quei soldi arrivo alla fine del discorso non vorrei che in tutto questo discorso poi si sacrificasse il più forte di tutti che è il rinnovato che è Barella ah tu dici Barella addirittura ma senti Michele hai citato il discorso dopo dopo lo vediamo hai citato l'infortunio di ecco sì quello è un altro fronte che si apre all'improvviso e purtroppo quello è un dacci il bollettino medico no ieri parlava di imprevedibilità l'altro ieri Marotta e Ausilio parlavano di è quasi tutto fatto nel mercato dell'Inter salvo cose impreviste l'imprevedibile l'imponderabile è sempre dietro l'angolo si allena col Canada per fare i quarti di finale di Coppa America in allenamento scontro di gioco si frattura la tibia quindi frattura della tibia sono 4-5 mesi minimo fuori e quindi siccome nel puzzle di Inzaghi è stata costruita la rosa per avere ogni giocatore un'alternativa a Buchanan copriva il tassello di alternativa Di Marco a sinistra lì può giocare pure Carlos Augusto però se Carlos Augusto lo consideri alternativa a Di Marco manca il tassello alternativa a bastoni quindi comunque si apre una falla e secondo me l'Inter in qualche modo non con grandi esborsi magari ho un parametro zero un giocatore oggi per esempio si sono fatti svariati nomi di giocatori a parametro zero come Marco Salonzo ma stasera Marotta l'ha già praticamente quasi smentito così come si è tornato a parlare di Perisic che abbiamo visto a San Siro tante volte è venuto a vedere l'Inter è venuto a San Siro con Hakimi a vedere l'Inter siccome lui è tornato nell'Aiduc secondo me se gli chiedono di fare con un ingaggio ridottissimo un anno all'Inter perché poi Buchanan a gennaio tornerà lui verrebbe volentieri è da capire se l'Inter vuole fare un'operazione del genere oppure ci sarebbe un'altra operazione che non sarebbe solo una diciamo una toppa Hermoso Hermoso che anche il Napoli vuole è a parametro zero ma lì sarebbe da salire un po' di più bisogna vedere se si riesce a incastrare come costi di stipendio perché andrebbe a essere un'alternativa a bastoni perfetta sul centro-sinistra esperienza Carlos Augusto torna nella sua posizione naturale di alternativa di Marco e poi aspettare Buchanan poi l'anno prossimo Darmian avrà un anno in più anche quando torna Buchanan mentre su Dumfries le notizie sono di un incontro in settimana ci sarà un incontro in settimana sembra che non essendoci offerte dall'estero come lui le aveva immaginate Manchester United o Big Europee lui è disposto anche ad accettare quell'offerta che l'Inter ha fatto all'inizio che sarebbe comunque sempre 4 milioni non è bassissima passa da 2 milioni Buchanan ha fatto la scena peggiore dell'europeo per la cronaca la simulazione di ieri sai qual è stato uno dei brutti gesti più brutti in assoluto parentesi Bellingham è stato veramente il gesto censurato a livello europeo perché sarebbe da fargliela pagare per un turno anche se lui dice che non si riferiva alla panchina anche Demirà ieri ha rischiato molto no Demirà rischio perché hanno aperto una indagine anche su Bellicam si diceva però è finita in niente finita lì ma la simulazione Dunfris da 2 e mezzo a 4 se accetta l'Inter lì chiude il mercato anche sulla faccia ma questa simulazione di cui lo accusa Paolo ma io sinceramente nella partita dell'Olanda ho visto gli highlights e ho visto in tutte le salse tutti tutti io ho visto Dunfris e De Vrij che hanno fatto una buona partita non ho visto l'episodio ah ma è ci quella di ieri si clamorosa 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 abbastanza vergognosa vergognosa ha simulato ha simulato io non l'ho vista l'episodio ha simulato un po' da Barellino ha preso è fortissimo però ogni tanto si lancia lo studio si scalda è vero lo faceva Barellino è stato l'unico giocatore che ha chiesto per essersi rotolato troppo io non ho mai sentito delle scuse è indifendibile scusami quando è troppo è troppo tu hai mai sentito uno che ha fatto una capriola di troppo e chiede scusa da Barbato anche usasse offese nei confronti di Barbato non difenderei qui non difenderei Danfris per quello che ha fatto devo andare in pubblicità ragazzi rientro Inter e Milan poi abbiamo un blocco finale tutto Milan ma voglio partire da Cialanoglu che chiude le porte al Bayern definitivamente a tra poco qualche settimana fa si era parlato molto della possibilità che il Bayern tentasse Cialanoglu con una mega offerta che l'Inter cedesse solo di fronte a una cifra molto alta però insomma c'era nell'aria il sentore di una possibile trattativa con il Bayern e invece si è un po' spenta intanto perché il Bayern oggi ha ufficializzato Palinia e quindi già insomma il Bayern ha preso il suo centrocampista centrale e quindi di fatto si chiude qui la vicenda ma a chiuderla ci ha pensato anche Cialanoglu abbiamo messo in grafica le sue dichiarazioni le ha rilasciate a Sky Germania quindi insomma un organo assolutamente attendibile Cialanoglu pronuncia parole insomma di grande fedeltà di grande amore nei confronti dell'Inter resto all'Inter semplicemente perché sono felice lì io e la mia famiglia ci sentiamo a nostro agio i miei figli vanno a scuola a Milano e ho costruito tutto lì ecco perché non è mai stata una possibilità per me andarmene è così Michele cioè realmente abbiamo parlato del nulla quindi oppure le cose sono cambiate strada facendo allora un incontro con qualcuno dell'entourage c'è stato perché il Bayern Monaco è dall'anno scorso che è dietro a Paligna però offri 35 e ti dicono di no 40 di no 45 di no 46 di no sembrava l'ultima offerta oggi sembra che abbiano dovuto superare i 50 milioni per prenderlo intanto come tutte le grandi società si cautelavano andando a cercare altre alternative una di queste alternative era Cialanoglu ma i discorsi erano embrionali con l'entourage con Stipic che il suo agente e quindi diciamo quando si è saputo di questo abboccamento è nato mediaticamente un polverone che lui ha voluto spegnere già dall'europeo facendo quel posto di qualche giorno fa poi ieri ha ribadito che lui stia bene a Milano è sicuro che però come ha detto anche Marotta ieri sia arrivata un'offerta del Bayern all'Inter non si è proprio arrivati a quel punto perché lì magari sarebbe potuto cambiare qualcosa perché se offrivano 70 all'Inter come hanno offerto sono arrivati a 55 il Bayern se vuole può arrivare a quella cifra anche se io non ci ho tanto mai creduto a quella cifra perché il Bayern non è una società che se pensa di offrire 50 per un ruolo poi va a offrire 70 per un piano B poi quest'anno però hanno spesso 60 per il giovane Olisee che è un esterno quindi secondo me il rischio c'è stato come sono d'accordo con Francesco quando dice in Serie A tu puoi dire che il mercato è chiuso ma il 3 luglio fino al 30 agosto si sveglia il Real Madrid punta un tuo giocatore gli offri il doppio d'ingaggio sì tu puoi essere felice ma ti fanno diventare più felice riempendoti di soldi quindi bisogna sempre stare sul chi va là la cosa bella di questo gruppo dell'Inter campione d'Italia è che ci sono veramente tanti giocatori che si sentono di poter continuare a vincere da Lautaro Cialanoglu Barella Bastoni Di Marco lo hanno dichiarato di stare molto bene poi ripeto magari tra un anno due anni tre anni cambieranno cambieranno squadra perché si sentiranno alla fine di un ciclo Inzaghi sta rinnovando rinnova fino al 2026 non è che i cicli sono eterni però ad oggi se in una fase lo stesso Marotta dice spesso non siamo nemmeno a metà del ciclo cioè loro sono convinti di poter ancora dare tanto tutti questi giocatori a parte Cialanoglu 30 hanno 27 anni 26 anni quelli che ho nominato Lautaro Barella Di Marco Bastoni 25 addirittura quindi per le altre comunque abbiamo parlato prima di Napoli e Juve quest'anno il campionato secondo me sarà più divertente perché si stanno attrezzando anche le rivali Simone sei contento che Cialanoglu resti all'Inter? Mi pare di aver capito che gli vuoi bene Ciala Cialanoglu La 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 Ciala Cialanoglu La 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 Ciala La 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 Noglu La 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 Ciala Cialanoglu Tra poco ci devi fare la finale Comunque giocherà la finale Ha fatto doppietta in quarti e gol in semifinale Sì Europeo Clamuso secondo Barbato Mi hai chiesto se io sono contento che l'architetto della mia squadra è rimasto a vestire i colori nero e azzurri No che abbia detto quelle parole lì attenzione amo l'Inter è diverso la domanda è diversa ascolta bene cosa ti sta chiedendo il conduttore T'ha fatto un'altra domanda Vimmi Ti ha chiesto delle parole non se sei contento che lui resti Beh è automatico No No Le parole No ti spiego perché Non se le ricorda Possiamo farle rivedere un attimo Possiamo farle rivedere Barbato abbiamo capito dei problemi di memoria Federico dovresti fare molto presto a dargli la parola per la finale perché sennò dimentica le squadre Vi spiego cosa sta succedendo secondo me in questa situazione Vai C'è la Noglu è veramente attaccato all'Inter e a Milano Le parole se possiamo rivederle un attimo Fanno capire che lui veramente non avrebbe nessun motivo mai per chiedere una cessione o per essere trasferito o per andare dall'altra parte a prescindere dal trasferimento che possa essere richiesto o dall'offerta che possa arrivare però mi fa percepire che dato che ci sono stati i rumors e i rumors non arrivano mai a caso lui sta facendo capire ai tifosi dell'Inter che qualora dovesse impazzire il mercato come ha detto giustamente Michele che non è mai certo fino al 31 di agosto non è lui che ha scelto Beh è chiaro sì lui ha buttato la palla dall'altra parte io da qui non me ne vado poi è normale che se qualcuno mi dovesse rendere l'ha fatto anche Bremer ha messo la maia di Zidane ha fatto impazzire i tifosi se poi c'è di Bremer si capisce che lì è la Juve è stata la società e non lui ha ragione Michele oggi tutti sono CDB in Serie A di fronte a qualsiasi offerta tu pensa a Juventus però devo dire che il fatto che il Bayern abbia comprato per 50 milioni Palinia il Bayern è un pericolo scambato però mi faccio una domanda in più io secondo voi il Real Madrid campione d'Europa che perde Mbappé e che perde Modric e cross Modric perché c'è ma non c'è più tu dici non potrebbe pensarci no però io posso dire ditemi ad oggi io la penso al conto qual è il 10 o non è che non è come regista c'è Rodri e poi se c'è la Noglu se la gioca secondo te Rodri da City non lo so se lo porti via no non lo porti via l'unico secondo me in quel ruolo oggi così anche per la questione di età rispetto ad altri così determinante per me c'è la Noglu io la penso perfettamente al contrario meglio meglio contento non che lui è rimasto per chissà quale motivo lui ha se mai nell'ipotetico caso dovesse mai un giorno dovere malauguratamente andare via lo farebbe per un malaugurato per un motivo particolare cioè è il contrario secondo me lui ha detto a me piace l'Inter io sono amico poi in caso di tsunami terremoto maremoto potrebbe succedere qualcosa ma in quel caso ma sta dicendo che solo l'Inter lo può cedere lui non vuole andarsi lui ha fatto capire che se succedesse quello che stai dicendo tu non è per scelta sua comunque l'Inter che aveva è la stessa cosa che ha detto Francesco è la stessa scusa era la stessa cosa avevo capito che tu avessi detto il contrario invece avevi detto la stessa cosa non mi alzo non mi alzo comunque l'Inter Federico aveva comunque l'Inter l'asticella sia su Lautaro che è arrivato a dare 9 milioni di base più bonus sia su Cialanoglu che comunque resta il secondo più pagato della Rosa sono i due giocatori più difficili da sostituire cioè come adesso dicevamo Rodri e Cross che comunque non è un regista puro non so chi lo può fare adattare Cross smette è un dramma però voglio dire tu togli Cialanoglu dici però 70 milioni sì e chi prendi con un determinato cioè l'Inter ha Aslani oggi come vice Cialanoglu ma non ha ancora quella leadership per essere il faro intorno a quale c'è ti ritroveresti tanti soldi ma ha un grosso problema per esempio si parlava di Kefren Turam ma Kefren Turam ha altre caratteristiche non è un regista Paolo il paradosso è che abbiamo parlato del Napoli della Juve dell'Inter ci sono giocatori già acquistati acquisti fatti alcuni a parametro zero altri che sono arrivati in questi giorni c'è un solo club finora nelle big che non ha ancora comprato nessuno e parlo del Milan ovviamente ma nonostante questo qui c'erano dei dubbi c'erano delle perplessità su come potesse reagire l'ambiente invece oggi è arrivato il dato sulla campagna abbonamenti del Milan 35 mila abbonati ne mancano 6 mila e poi si chiude la campagna per sold out e attenzione 35 mila abbonati ma la vendita libera non è ancora iniziata ci siamo ancora nella fase della prelazione barra waiting list che è questa nuova cosa che si sono inventati adesso qualche opinionista aveva pregato di non fare abbonamenti per reazione alla mancanza di campagna acquisti ma la squadra sinceramente non è da buttare ci vogliono quattro innesti fondamentali e sono questi io credo che abbiano lavorato sotto come è successo questo bailam per l'allenatore in cui si facevano molti nomi è anche un'idea giornalistica un'opzione giornalistica c'è stato un silenzio un muro un veto da parte della società mi auguro che questo veto che c'è stato per l'allenatore prima di nominarlo ci sia anche per i calciatori che i vari zirchie Fofana Royal del Tottenham se non sbaglio e magari un centrale siano stati messi non dico dottocontratto ma siano già avviate trattative perché possono essere poi annunciati entro la metà di agosto quantomeno anche un po' prima metà agosto inizia il campionato d'accordo ma l'auspicio è questo sto dicendo siano messi in disposizione e del resto molti giocatori pensiamo alla Francia che stanno avanti ah si faranno le vacanze tornano fanno fare vacanze torneranno in agosto il problema di fondo è che l'auspicio è questo la speranza è questa e penso che abbia informato i 35 mila che hanno valorizzato l'opzione che avevano per rinnovare l'abbonamento poi concretamente non sappiamo se il dottor Furlani con l'aiuto di Moncada abbia effettivamente inoltrato le trattative o si sia fermato dietro ai soldi paletti della società però due su quattro difensore centrale e terzino destro sono già molto avviate e anche sui centrocampisti attaccante voglio dire ci sono diversi nomi ma si però non sono quei colpi che fanno volare gli abbonamenti mi stupisce in positivo l'entusiasmo comunque la fedeltà mettiamola così la fedeltà del pubblico la fiducia a prescindere si bravo la fiducia a prescindere non so Marcello come la vedi tu cioè ammirevole perché il campionato non dimentichiamolo il campionato è finito con la contestazione della curva del Milan che non tifava più come dire noi non siamo contenti della strada che state prendendo e non mi pare che negli ultimi ma poi alla fine la fede prevale io devo dire che li ammiro per questa cosa qui perché a fine conti non gliene frega nemmeno di sapere esattamente che arriva loro tifano Mila vogliono seguire il Milan io gli faccio un applauso personalmente Francesco ti accodi a questo concetto oppure rimani un po' stupito tempistiche io non non credo che ci sia una questione di non bisognerebbe allarmarsi adesso se due squadre vanno meglio di te in questo momento perché poi è tutto relativo magari il Milan impazzisce con il mercato da fine luglio fa una sessione pazzesca per due settimane compra 10 giocatori per dire cioè non starei tanto a preoccuparmi di questo anche perché secondo me Fonseca deve ancora capire bene o parlarsi in modo un po' più chiaro con la società per capire su cosa puntare perché si sentono nomi diversi si passa da Lukaku ad Ebram poi si torna si parlava di Sesco qualche settimana fa non si capisce se Teo Hernandez è ancora cedibile o meno poi si vira su Mignan qualche difensore centrale è entrato in uscita io credo che il Milan sia già una buona squadra più che una buona squadra come partenza e che abbia bisogno di sostituire un campione come Giroud che non c'era più intanto e di capire cosa fare con Leao perché Leao è un altro giocatore che per me ha lo suo problema di chiesa anzi forse ancora di più Leao dà addirittura meno utilità però gli hanno arrivato il contratto quella è la differenza c'è un contratto lungo cioè voglio dire è centrale nel progetto Leao ma non è detto magari l'ha rinnovato per vendere no capito come no faccio contarlo è questo ma non ha clausola altissima non ha offerte ma la clausola anche Delict aveva 130 milioni l'ha venduto 85 Delict ha la casa da 130 l'ha venduto 85 alla fine chi? Delict ah Delict no ma ho capito ma lasci a perdere Delict io sto dicendo Leao 175 milioni ma chi è che pagava la roba di oggi? gli arabi ma non neanche loro ma lui poi ci vuole andare ma neanche loro ma non è l'anno lui vuole restare a Milano perché fa anche il cantante il punto del Milano è non cedere Teo Hernandez perché non è replicabile trovare un terzino destro perché manca ormai da troppo tempo trovare un centrocampista che faccia da filtro tra il centrocampo offensivo e la difesa trovare i centravanti e trovare i centravanti sono quattro pedine il Milano ha bisogno di quattro pedine certo Paolo commentavamo prima in pubblicità questo lo posso svelare ricordavamo partite degli anni 90 inizio anni 2000 inizio anni 2000 a stellare ma ricordo ho fatto l'esempio un Milano a gote non dico vuoto però diciamo che se non era una partita di cartello esatto 40.000 la finale di Supercoppa di ritorno con l'Arsenal dell'8 febbraio 95 lo stadio era semivuoto era una finale di Supercoppa europea sono cambiati i propri temi infatti è meglio attenzione perché lo stadio pieno è bello scusami scusami